Comunque ragazzi siamo appena arrivati a Verona e ho aggiustato la U Siamo davanti alla piazza quella dell'arena e cioè non sono mai venuto a Verona io quindi non so com'è di solito però secondo me c'è davvero pochissima gente Biglietto per l'arena di Verona fatto, sconto studenti 15 euro in due Bella regà, sono dentro l'arena di Verona Come diceva un mio caro amico saggio, bello il Colosseo, enorme l'arena di Verona, non me l'aspettavo così grande Sosta dentro l'arena di Verona perché fa veramente troppo caldo e qua si sta veramente da dio qua dentro E resteremo tutto il giorno E' ora di prendere il monopattino, sei contenta? Scommiamo C'è decisamente più gente qua verso la casa di Giulietta, infatti c'è una coda che è lunghissima Bella raga, siamo in coda per la casa di Giulietta Abbiamo fatto sta coda per fare la foto con Giulietta Cioè a me è proprio una cosa che non avrei fatto Cioè c'è una cosa Ci stiamo avvicinando alla strada di Verona Giulietta Non c'è perla No, manca la trocca Bella Giulietta Oh io la prendo Sergio ha preso la Macedonia Ti metto No, come la devi tenerne? Beh E' ora di salutare Verona anche perché eravamo solo di passaggio Quindi, bella Ciao Verona Sempre in mezzo sei Tutte le mie foto E possibilità La sensazione E possibilità E possibilità Grazie.